Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. La review di oggi sarà doppia e sarà dedicata a due giocatori che per la propria nazionale in questa edizione della Coppa America sono stati assolutamente fondamentali, ovvero Edu Vargas e Arturo Vidal nella loro versione Team of the Tournament. Due versioni assolutamente fortissime, nel loro reparto potrebbero giocare da soli e la differenza non si sentirebbe, ma andiamo subito ad analizzare queste due carte iniziando da Vargas. Per quanto riguarda Vargas troviamo una carta con delle statistiche niente male a rispetto di un over all'abbastanza bassino, ovvero di 82. Iniziando dalla velocità dove troviamo un bel 89. Valore di tutto rispetto, soprattutto visto il cambio di posizione da esterno destro ad ATT, che lo rendono sicuramente forte, questo è solo il primo aspetto. Per quanto riguarda il dribbling anche qui troviamo delle ottime caratteristiche e la cosa più importante sono le 4 stelle skill e l'agilità con un valore di 92. Anche se non avesse avuto le 4 stelle skill il dribbling sarebbe stato comunque un bro proprio grazie a quell'agilità, perché anche senza essere molto pratici nelle skill si riesce facilmente a superare l'avversario. Per quanto riguarda il tiro, anche qui statistiche buone, nulla da eccezionale, però ci sta una buona statistica sia nel posizionamento, in finalizzazione, potenza tiro e tutto. L'unica statistica che non arriva all'80 sono i calci di rigore, però alla fine quella è relativa, infatti anche un portiere di sto gioco può battere tranquillamente un rigore. Le statistiche di difesa le saltiamo, visto che stiamo parlando di un attaccante, e andiamo direttamente al passaggio. Passaggio non c'è nulla di eccezionale da dire, non è né un pro né un contra, è un bel passaggio corto, tutto il resto non mi ha entusiasmato e non mi ha deluso, quindi nella media. E per finire andiamo a vedere il fisico. Fisico dove troviamo una statistica abbastanza bassina, infatti troviamo un 68 sulla carta, però abbiamo due statistiche buone e due meno buone. Le due buone sono elevazione e resistenza. L'elevazione è un po' relativa perché alla fine è un giocatore basso, anche se ha un valore di 84 comunque di testa non ne prende tante. Mentre invece la stamina permette di arrivare a fine partita con ancora un briciolo d'energia per tentare magari lo scatto della vita all'ultimo. Mentre invece le due negative sono la forza fisica e l'aggressività. Tutto sommato, a mio avviso, questa versione di Vargas è il secondo attaccante più forte della Bundesliga dopo Lewandowski, perché mi ci sono divertito veramente troppo ad usarlo. E ovviamente, oltre al fatto di essere divertente da usare, è anche veramente forte, perché come avete visto dalla clip di inizio video, un bel po' di gol li ha fatti, e anche in poche partite. Detto ciò, passiamo a Re Arturo. Vidal che ottiene questa versione che è totalmente fuori da ogni schema. Entra finalmente di diritto nella Gullit Gang, come ogni anno del resto, anche se c'è da precisare che quest'anno proprio Gullit non fa parte della sua stessa gang, però quelli sono dettagli. Dicevo di Vidal, tutte statistiche superiori a 80. Una carta che già guardandola vi fa capire quanto è forte. Questa versione di Vidal, insieme alla versione Tozzi di Dying Colanna, mi avviso, è il centrocambista più forte di FIFA. Perché, come fa lui, sia la fase difensiva che offensiva non le fa nessuno. È un giocatore che veramente potreste schierare in ogni parte del centrocambio e renderebbe comunque da Dio. Lo volete mettere CDC? Ha dei valori assurdi in difese fisico. Parliamo di 88 di difese, 89 fisico. Quindi può farlo e lo farebbe grecemente. Volete metterlo mezzala? Farà avanti e indietro per tutto il campo. La velocità ce l'ha, il passaggio pure. Infatti troviamo un bello 87 sulla carta. Che l'unico difetto, se proprio gli si voleva trovare alla carta base di Vidal, era proprio il passaggio che non era proprio ottimo. Ma con questa versione abbiamo, ripeto, un 87 che si commenta da solo. Volendo potreste metterlo anche COC. Sarebbe un trequartista tipico. Magari non ha il tripling, anche se ha 86 sulla carta, magari non ha le 4 stelle skill e qualcuno potrebbe far storcere il naso. Ma vi assicuro che fa degli inserimenti che non hanno nulla da invidiare ai migliori attaccanti del gioco. Infatti in tante partite, magari l'ho fatto iniziare a mezzale e poi l'ho spostato a trequartista. E comunque a livello di golle assist rendeva da dio. Quindi, boh, è una carta che veramente è fuori da ogni logica. Per me potreste metterla anche in porta. Ma comunque, andiamo a vedere velocemente le statistiche. Troviamo un 80 per quanto riguarda la velocità. Un 86 per quanto riguarda il tripling, anche se come ho detto prima ha solo 3 stelle skill, ma alla fine quella è relativo. È abbastanza agile, ha un bel controllo palle e tutto, quindi ci può stare. 86 per quanto riguarda i tiri, e qui i tiri dalla distanza sono un suo pezzo forte perché tira delle canonate assurde. 88 di difesa, che boh, è statistico superiore a un buon 80% di tutti i difensori del gioco. 87 di passaggio, come ho detto prima nelle precedenti versioni, magari un piccolo difetto poteva essere il passaggio, mentre invece qui non lo è. E per finire l'89 di fisico, che sicuramente non ha magari tanta forza fisica, però a livello di aggressività e di resistenza non credo sia secondo a nessuno. Forse solo Kandé Tozza ha più aggressività e resistenza. Anche il prezzo, sotto i 300.000 credit, cioè è un giocatore completissimo. Alto alto di work, cioè non saprei cos'altro dire perché credo si commenti da sola questa carta. Per finire andiamo velocemente a ripilogare i pro e i contro di entrambi. Per quanto riguarda Vargas, tra i pro troviamo velocità, agilità, il tiro, soprattutto a giro perché non ne sbaglia uno. I passaggi corti e le 4 stelle skill, che comunque visto che parliamo di un ATT sono molto più utili di quanto potrebbero essere normalmente. Tra i contro, solamente aggressività e forza fisica, per i motivi detti prima. Come voto finale, un bel 9 non glielo toglie nessuno, visto anche il prezzo. Infatti con 60.000 crediti circa, vi portate a casa uno degli attaccanti più forti della Bundesliga, a mio avviso secondo solo a Lewandowski, come detto prima. Mentre invece, per quanto riguarda Vital, beh, tra i pro tutto campista ho voluto mettere, semplicemente perché qualsiasi cosa si va a vedere è un pro. Sto giocatore è tutto un pro, quindi la miglior definizione è proprio tutto campista perché può fare qualsiasi ruolo a centrocampo. Tra i contro ho messo scherzosamente inutile cercarne perché effettivamente non ne ha. Cercare un difetto in questa versione di Vital, soprattutto, sarebbe come cercare il pelo nell'uovo, una cosa totalmente inutile. Come voto finale, ovviamente, 10 non glielo toglie manco Gesù Cristo perché, boh, è una carta illegale. In conclusione, vi dico che se ne avete la possibilità dovete provarli entrambi. Perché, boh, sembrano legati da un feeling magico e insieme fanno delle cose assurde, come potete vedere in alcuni casi anche, come avete visto, scusate, in alcuni casi anche dalle clip. Con questo il video termina. Vi ricordo di passare dai nostri social. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate per farci sapere e pensate. Adio! 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 Grazie a tutti.